Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di questo contenitore di plastica che serve per i lavaggi nasali. E' costato 2,53€ ed è arrivato in circa 5 settimane. Come sempre, prima di aprirlo, vediamo come viene mostrato sul sito. Apriamo la confezione. Contenitore di plastica che tiene fino a 300 ml di acqua. Il suo beccuccio da avvitare, la guarnizione e due spruzzini. Uno ne ha uno solo e l'altro invece ne ha tre. Allora, il contenitore ha questo bottoncino sul fondo che vedete che si schiaccia e questo aiuta a far uscire l'acqua. Adesso lo montiamo, senza distruire tutto. La guarnizione va qua dentro, nel beccuccio. Lo avvitiamo e dopo scegliamo i vari beccucci. Questo qua ha tre buchi oppure questo qua ha uno solo. Lo incastriamo dentro e voilà. Questo oggetto è utilissimo soprattutto per chi soffre di allergie o per chi ha raffreddore. Perchè aiuta a stappare il naso e l'uso ovviamente dovrebbe essere frequente per avere i benefici. Bene, ora non ci resta che trovarlo. A dopo. Allora, procediamo con un cucchiaino di sale grosso da cucinare. E poi ci mettiamo dentro l'acqua bollente fino a riempirlo. Così il sale si scioglie meglio. Una volta riempito, chiudiamo il pituto e aspettiamo che l'acqua sia tiepida. Ora, se no ci stieniamo il naso. Sto usando come cavia il mio compagno. E come vedete, l'acqua sta uscendo. Molto bene. Anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo come sempre di lasciarmi un bel like a questo video. Di commentare se anche voi avete usato questo oggetto molto utile. E di iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video. Ciao! Ciao! Oi nel video! Ciao! Sì. Ciao!